La lista di un G10 La liste di un G10 La liste di un G10 La liste di G10 e una lista di un G10 è una semplice permesso E poi in cui andiamo a un continent che ci organizzano tre successi congresso. Ci trasformavano tra l'astei aroi e avevano buoni idei sulla campo di informare, lavorare in le persone, in conduzione di Esperanto in diversi medioe, e avevano una forte tradizione di Esperanto centri e rinconti. Ci avevano la cultura centra in Grezion, ci avevano Bures, ci avevano iniziato come le settimane in Pluesec, in Bretonnia, ci avevano anche la mediterranea amaro, alcune aranje, ci deve calcolare le più forti. La Germana è una tradizione forte, e in questo momento ci avevano economiae, obstaclete, che iom bremsas gian faradon. più prossime mi dirus che Polando havas fortan movadon, con molti regioni e centri, e non sono iniziato a organizzare uno, ma farebbero buoni e mi dirus che ci deve essere uno o la Landoe che io ne considero che aveva ancora buon giungonare agadone che aveva ancora in Germania se ne pensavo per i congresso ne devo dire che la Italia movata el staras, ili ai congresso atingas grandan qualiton che io ne estis exempla antar tridecchiaro mi avevo memoria in pritio ma la Lastae sono laudate di molti persone che avevano i discursi e mi avevo fatto la Lastae e sono tre internazioni sono altiere persone in decodali alle regioni tutte regule con più di 100 partecipanti questo è la mia bilda per l'Europa per l'Asia la levigianta stelo devos esticinio sem dubbe ci havas grandegan potenzialon perché l'economia in tutte era in positiva direccia non è senza problemi comprennebili ma farigias tutte pagi pova lando che potrebbero metti in segale baso con altri landoi e altri continenti e levigis memstari agantoi ene della cadro de UEA di con 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 me in 2012 e la Fervo isti aveva simile in la gius a iaro di ocasi due universali congressi e noi avevamo un luogo e noi avevamo grandi spero per la daura crescita in Cineo Correio è una dinamica avevamo buoni contatti e organizzazioni avevamo un luogo avevamo un luogo studente e università che era una migrazione e noi avevamo un luogo avevamo un luogo e noi 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 avevamo grandi spero per i nuovi luogo di un luogo Nepalo, Mongolia, Indonesia e Singapore sono un posto di nuove 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 nuove, che noi dovessi curare tutti. Se riguarda l'America Latina, noi dovessi pensare per il Brasile. Tio è grande nuove 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 nuove, attiva, molto organizzata, buoni congressi o casi. Tio è stato un po' di un lato, e in tutto il popolo delle esperantistiche è uno. Tio è anche un caratterizzato in Cineo, e tio è stato molto sperato. Se noi non possiamo crescere la nuove nuove nuove, che noi membrano, noi solviamo grande parte di noi generazioni di figli. La lì ai landoi havas agadon, sed ne 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 ho comparebla con Brasilo. Africa è molto molto mixata, afferroi ocasi, sono progressi, molto rapidi, molto facili, perché sono uniche, externe circostanze che bremsate l'evoluzione. sed è stato stesso da landoi, che voi vere bene agadas, che afferroi pluiras. Ne avvisi due, tre successi in amo seminarioi in Africa e landoi, che noi speras avvi ciliare in tio continento seminario. e, eccetera, noi volessi in tio in altri continenti, un minimo di tio in tio. E noi facili attingati tio selo. Do, ienest, la mondo, mi dirus, che pri Africa uno grava afferro estus, che gi acceptuen venontaiaroi pli da internaziai rincontigioi. Estas malfazzilagioi all'Africanoi ricevi visoin cae permessoin poveni all'Europo, o all'iai landoi, da noi faro l'inverso, cae la mondo iru al Ili, cae Ili havu la internazian contacton, c'è sì. Ilei pioniris, cae gii havis conferenzo, ogni ammen du mil oce in Benino, cae Ili volas iri denove, in la Baldava Iaroi, teo havas firma in plano, po' fari iunularan congresson en la continento, Ili ne fin decidis pri landos, ed nec Ilei fin decidis, sed ambao havas firma in intensoin, cae circulas la ideo en UEA, chami circuligis gin, ca nepre universala congresso devos estic decidita por Africa en la periodo de la venonta estraro, do gis du mil dec nao, cae tiù congresso devus ocasi en la frua Iaroi de la venonta Iardeco, do du mil dudec o du mil dudec uno, io tia. Estos tempo, estos pli ol tempo, cae universala congresso coraggio iri al Africa. la condicio estas en calcae landoi, bona congresseio estas havebla, la loca movado suficie fortas, cae aliai la logigo estas solvebla, tiù congresso devas esti realigebla, cae tiù malfermos al ni tion continenton. Grazie a tutti.